Benvenuti sullo strano canale. Due ragazzi vivono una relazione serena, ma quando arriva una terza persona le cose si fanno talmente complicate da sfociare in un delitto. Immaginate di sentir bussare alla porta, di aprire e di trovarvi di fronte una ragazza con i vestiti strappati, coperta di fango, sanguinante, piena di lividi e senza scarpe. Vi racconta che è stata aggredita e che ha bisogno di un dottore. Che fate? Non ci credete? È quello che è accaduto a un allevatore di bestiame, Dawn Seaple, a Springbrook, vicino a Eau Claire, in Wisconsin. Sono le 4 e un quarto del pomeriggio del 22 marzo 2018. La ragazza si chiama Ezra McCandles, ha 20 anni e la sua storia, visto il suo aspetto, è più che convincente. Dawn chiama immediatamente il 911. Ezra appare in stato di shock e sulle prime dice di non ricordare nulla. Poi però fa un nome, il suo ex ragazzo Alex Woodworth. È stato lui ad aggredirla e a tentare di ucciderla. Ezra chiede di chiamare un uomo di nome Jason Mangel, che sarebbe il suo attuale ragazzo, con cui ha una relazione traballante, di quelle in cui ci si lascia e ci si riprende di continuo. E in quel momento, tecnicamente, Jason sarebbe il suo ex, dato che si trovano in uno dei periodi in cui non stanno insieme. Ma chi è questa Ezra, esattamente? Sta dicendo la verità? Che motivo avremmo di dubitare di lei? Beh, lasciate che vi racconti la storia dall'inizio e capirete. Ezra McCandles nasce il 6 ottobre 1997 a Stanley, in Wisconsin. La madre, al tempo, ha solo 14 anni, mentre il padre, coetaneo, si dà alla macchia e lascia l'adolescente a occuparsi della neonata. Alla nascita la bambina viene chiamata Monica Kay, ma in seguito cambierà il suo nome in Ezra McCandles, scegliendo il cognome ispirandosi alla storia di Chris McCandles, il noto viaggiatore di Into the Wild. Durante l'adolescenza affronta una lunga crisi di identità in cui mette in discussione il suo genere sessuale. In alcuni periodi si identifica come un ragazzo, in altri come una ragazza. Quando tocca i 20 anni sembra trovare un equilibrio come donna e smette di oscillare tra maschio e femmina. Resta comunque una persona tormentata, sempre in cerca di attenzioni, in balia di una mente instabile nella quale non riesce a fare ordine. Stufa dei libri, molla il college a metà strada e si sposta a Eau Claire. Nutre da sempre un forte amore per l'arte e lo esprime cimentandosi in varie tecniche, tra cui il disegno, arrivando a usare la propria auto come un foglio di carta. Durante l'estate del 2017 conosce Jason Mangel, 33 anni, un medico militare. A dispetto della differenza d'età, 13 anni, tra i due scatta la scintilla che li porta a prendere la decisione lampo di andare a convivere a fine agosto. A Eau Claire c'è ben poco da fare e l'unico locale è Daracy, nel quale trascorrono i loro momenti liberi. Qui fanno amicizia con Alex Woodward, un ragazzo di 23 anni che lavora lì come barista per arrotondare, visto che ha anche un altro impiego come supplente. Il suo sogno è diventare professore di filosofia a tempo pieno, un giorno. Ragazzo tranquillo viene definito da chi lo conosce una persona che ama i libri e aiutare il prossimo. All'inizio dell'autunno Ezra scopre di essere incinta. Senza dire nulla a Jason, se ne va a Minneapolis per abortire, il 6 ottobre 2017, che tra parentesi è anche il suo compleanno. La sua amicizia con Alex si fa più intensa, visto che i due si ritrovano spesso a parlare da soli quando Jason non c'è. Col tempo Alex comincia a vedere in lei una ragazza interessante ma problematica, bisognosa di aiuto, che fa scattare in lui la sindrome del croce rossino. Cominciano una relazione alle spalle di Jason, che non ci mette molto a capire cosa sta succedendo. Li affronta entrambi di petto e mentre Alex si dice innamorato, Ezra non solo rompe con lui ma anche con Jason. Quest'ultimo accetta la decisione della ragazza e parte quindi per un addestramento militare di due settimane. Al suo ritorno lo attende una sgradevole sorpresa. Ezra afferma che uno dei suoi migliori amici, John Hansen, l'ha violentata dopo averla fatta ubriacare. Jason è sconvolto. John, il presunto violentatore, altrettanto. Ezra ride sotto i baffi mentre fa la sua deposizione in centrale e sembra non rendersi conto di aver accusato un ragazzo innocente di un reato terribile. La polizia interroga anche Alex, che non appoggia quella storia. Secondo quanto gli ha riferito Ezra, tra i due c'è stato del sesso consensuale, ma poi lei se n'è pentita e ha ben pensato di inventarsi la violenza per attirare l'attenzione di Jason. Un modo inquietante di attirare l'attenzione, che apre per noi una finestra sulla mente di una ragazza che gioca con le vite degli altri come fossero marionette. Quando la polizia analizza i tabulati telefonici del cellulare di Ezra, trova alcuni messaggi molto espliciti spediti a John. C'è stato o no questo abuso? Sembra di no. L'indagine si ferma lì e il caso viene archiviato. Ezra torna a casa della madre, ma la sua mente ormai ha un solo pensiero, riconquistare Jason. Lui non ne vuole sapere. Ormai ha capito che Ezra è una ragazza con parecchi problemi e dalla quale è meglio stare alla larga. Ha deciso di tagliare i ponti dopo averla incontrata un paio di volte per parlare di persona e aver scoperto nel cellulare di lei dei messaggi molto più che affettuosi, scambiati con Alex e anche con John, il suo presunto aggressore. Amareggiato, Jason ha deciso di prendere un'altra strada e non ha intenzione di tornare indietro. Ezra non la prende bene. E usare l'espressione non la prende bene, alla luce di quanto sta per succedere, è un eufemismo. Eccoci arrivati al 22 marzo 2018, qualche ora prima che Ezra si presenti alla porta dell'allevatore di bestiame per chiedere aiuto. Quel giorno Jason si trova al solito locale, il Racy. Gli si presenta davanti Ezra, con la quale ha messaggiato la sera prima e che credeva ancora a casa della madre. Lei spiega che è tornata in città per restituire ad Alex alcune cose che le ha prestato. Jason è perplesso e poco convinto. Ezra gli sembra agitata, con qualcosa di malsano nello sguardo. Cosa sta escogitando stavolta? Si chiede preoccupato Jason mentre la guarda uscire dal locale. Passa il tempo e lui non si dà pace. Decide di prendere la bici e andare a casa di Alex per assicurarsi che sia tutto a posto. Vede l'auto di Ezra parcheggiata davanti all'abitazione, in moto, con la portiera aperta. La spegne e per un po' si limita a girare attorno all'isolato, indeciso se bussare o meno. Alla fine lo fa e trova Ezra e Alex che stanno parlando. Jason ha una brutta sensazione, ma non ha il tempo di fare nulla perché si trova davanti un agente di polizia, chiamato dal custode dell'edificio che, vedendolo trafficare con l'auto e a girarsi in bici lì attorno, si è insospettito. L'agente interroga Jason che spiega la situazione e interroga anche Ezra e Alex che affermano che non c'è alcun problema. L'agente ha fatto il suo dovere e ha concluso che siano in corso le solite e complicate dinamiche tra ex. Non ha motivo per arrestare nessuno, peccato che non abbia il dono della preveggenza. Jason se ne va sulla sua bicicletta, mentre Alex sale in auto con Ezra e va incontro alla sua fine. Prima che si arrivi a capire cos'è successo veramente, troviamo Ezra che arriva alla fattoria in pessime condizioni e viene quindi medicata e interrogata. Ricorda solo che Alex stava guidando la sua auto e parlava con lei che sedeva accanto a lui. Poi un blackout. Quando le nebbie si diradano, lei sta camminando nel fango per raggiungere la porta di casa dell'allevatore. Non sa dove si trovi Alex o la sua auto. Non sa per quanto ha camminato. I medici che la prendono in cura devono medicare un'incisione sul suo braccio che dice boy, ovvero ragazzo. Lei non ricorda nulla al riguardo. Alex non si trova e non risponde al cellulare. Casa sua è deserta e i suoi genitori non lo sentono da ore. Per trovare almeno la macchina si torna alla fattoria e si seguono le impronte dei piedi di Ezra rimaste nel fango. Conducono a una stradina isolata. Ecco l'auto. La portiera posteriore, lato guidatore, è aperta e la metà di un corpo sporge fuori. Prima ancora di vedere il volto del cadavere, gli agenti sanno che si tratta di Alex. È stato pugnalato 16 volte, alla testa, al collo, al petto e all'inguine. Il ritrovamento del corpo risveglia la memoria di Ezra. Dice che Alex aveva un coltello e l'ha aggredita, tagliando i vestiti e incidendole con la lama la parola ragazzo sul braccio. Un brutale gesto che si riferisce al suo passato, quando aveva messo in discussione il suo genere sessuale. Ezra gli ha quindi tirato una ginocchiata al linguine e lui ha mollato il coltello, prontamente raccolto da lei, che ha cominciato a menare colpi a destra e a manca, affondando la lama ovunque per salvarsi la vita. Da lì in poi Ezra cambierà versione un milione di volte, spostando l'azione dai sedili anteriori, cambiando di posto a se stessa e ad Alex rispetto a chi guidava, a quelli posteriori. La dinamica che spiegherebbe come abbia potuto Alex tenerla ferma abbastanza a lungo da inciderle la parola ragazzo sul braccio, non risulta efficacemente spiegabile o credibile. Le mani di Alex non presentano le classiche ferite da difesa, segno che è stato aggredito di sorpresa. La scena del crimine viene esaminata e visto che la maggior parte delle tracce di sangue viene trovata all'esterno dell'auto, il castello di bugie di Ezra comincia a crollare. Quando poi si scopre che il coltello appartiene a suo padre e che lei lo ha presa quando è andata a trovarlo, la storia di Alex che sfodera l'arma all'improvviso non regge più. Ezra ammette infine che i tagli sul braccio se li è fatti da sola, così come i lividi e sempre usando il coltello ha lacerato i vestiti che indossava. Come la più consumata delle attrici ha indossato un costume di scena che avrebbe dovuto rappresentare la vittima di un tentato stupro e tentato omicidio, vittima che ha dovuto uccidere per difendersi. Non ha fatto i conti con la squadra della scientifica che, assieme agli investigatori, smonta la sua versione pezzo per pezzo nel giro di due settimane, trascorse le quali finisce in manette con l'accusa di omicidio di primo grado. Il movente? Secondo una logica distorta, Alex era stata la causa della fine della sua relazione con Jason. Ovviamente lei che lo ha tradito, ingannato, imbrogliato e fatto soffrire in ogni modo, non ha alcuna responsabilità nella decisione dell'uomo di mettere la parola fine alla relazione. Per questo ha pagato Alex, nel più orribile dei modi. Un anno e mezzo dopo il processo comincia. Lei continua con la storia della legittima difesa. Racconta che la parola ragazzo aveva un significato preciso per Alex. Lui la chiamava così nell'intimità, il suo ragazzo. Ezra disegna un rapporto malsano, composto da lei la sottomessa e Alex il possessivo. Ezra che a un certo punto vuole interrompere la relazione e Alex che non ci sta. Sono tutti spiazzati dalla sicurezza e dalla tranquillità che ostenta mentre siede al banco dei testimoni. Jason, trascinato suo malgrado in questo incubo, si rammarica di non aver agito in modo diverso il giorno in cui ha visto Alex assieme a Ezra, ma come poteva immaginare cosa sarebbe successo. Ad ogni modo, la giuria ci mette tre ore a giudicarla colpevole di omicidio il 1 novembre 2019. All'udienza finale per la conferma della condanna, il 7 febbraio 2020, Ezra si presenta con i capelli corti e, in lacrime per la prima volta dall'inizio del processo, esprime il suo cordoglio alla famiglia di Alex, continuando in perterrita a sostenere che lo ha ucciso per legittima difesa. La condanna è l'ergastolo, con la possibilità di richiedere la condizionale dopo 50 anni, quando avrà superato i 70 anni d'età. Ezra, tuttora protagonista del suo mondo immaginifico, sta cercando di ottenere un secondo processo. E qui finisce questa storia di follia, bugie e raggiri. La brama di attenzioni che da sempre caratterizzava Ezra è stata soddisfatta durante il processo, quando tutti gli occhi erano puntati su di lei. Ma con le attenzioni è arrivato anche un imprevisto ergastolo. Se pensava che fosse tutto un gioco, beh, si sbagliava. Il pensiero va ad Alex, un ragazzo brillante e gentile che voleva fare l'insegnante. Nel gioco letale di Ezra era solo un balocco che ha finito con l'annoiarla e, come tale, è stato rotto e gettato via. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!